E' stato ritrovato senza vita il corpo di Fani Catanase, il giovane rumeno, la cui scomparsa era stata denunciata dal titolare di un'azienda agricola di Carlantino, presso la quale prestava lavoro come bracciante. L'imprenditore aveva indicato ai carabinieri di Lucera il posto dove la vittima era solito andare a pescare, ed è proprio nei pressi di un vasconi irriguo, nelle vicinanze della diga di Occhito, che i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno ripescato il cadavere del 28enne. Il giovane è molto per annegamento, molto probabilmente dopo essere scivolato accidentalmente in acqua. Sul margine del vasconi i carabinieri hanno ritrovato il cellulare del giovane, la canna da pesca e una carpa evidentemente pescata prima della tragedia.